Qualificato! Sì! Amici sto registrando questa intro a fine gioco Abbiamo appena finito di registrare Fall Guys Un gioco appena uscito su PS4 gratis Vi invito a scaricarlo Signori fa di un ridere che voi non avete idea Tra l'altro sono in coppia con un mio amico Che è quello della Nabicraft Vabbè sapete benissimo meglio di me chi è Vi invito a guardare il video fino alla fine Vi invito a lasciare un piaccio, un commento, condividete il video Signori iniziamo e preparatevi con le risate Signori preparatevi, preparate Il delirio Allora come vi avrete detto nella intro Siamo su Fall Guys la season neutral Tra l'altro, oh quindi si divide in season Bani sei contento che si divide in season Bene, molto bene Siamo in compagnia di Bani che è quello della Nabicraft Non mi viene in mente il nome Tra l'altro oggi la andremo a registrare Esatto, un saluto, un saluto Quindi vedete due Oh oddio ce lo si è fatto uguale il personaggio Batti un 5 virtuale Che destra bello Yes, desincronizzato Vabbè non perdiamo tempo Facciamo ready E niente Fall Guys vi invito a scaricarlo Sulla play è gratis tra l'altro Potete giocarci con i vostri friends Ma esiste anche a squadra o solo in coppia? No no esiste Cioè poi andare avanti all'infinito Penso a prendere gente Ok però se metti pronto il gioco è più carino Praticamente per chi non avesse mai visto la Non era una serie tv Era un gioco in televisione Wipeout Era quello dove Sessanta No non erano sessanta Era una cinquantina Una ventina Dipendeva da America, Cina Di gente si sfondava a vicenda Si picchiavano come dei caimani L'ultimo che sopravvibeva Vinceva E questo è sostanzialmente la stessa cosa Quindi Stonks E' la mia prima partita Il buon Bunny ne ha già fatto un paio Quindi Oh mi devi insegnare Ma io non so niente Cioè dobbiamo semplicemente Correre verso il traguardo Dobbiamo arrivare al traguardo Ok Con tutti gli escamotage possibili Anche picchiando Si si dobbiamo Tipo imbrogliare Perfetto Dobbiamo imbrogliare Ma guarda mi fa partire ultimo Dov'è che sei te? Boh Chi sono? Ah sono terza fila Eh ciao Salta Oddio che casino Non ti vedrò mai No invece ti vedo Eh però magari uno simile a te No 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 che casino No dai sono Tutti caduti Sono l'unico E quindi che succede? Ripartiamo Ma come faccio? Come faccio a trattenermi Del tipo non cadere? Eh non puoi No è un mega casino E tra l'altro Si qualificano Solo i primi 42 Ma ti vedo Guarda sono tutti stupidi Continuano ad andare tutti giù Dai ma ci deve essere un modo Allora i tasti I tasti sono Quadrato Si si ti vedo Ti vedo Vai 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 Che sei bello avanti Sei bello avanti Ma c'è gente avanti Io sono al checkpoint Vai C'è il checkpoint Perfetto Vai preso Ok Sono ultimo eh Però l'ho preso Corra Corra signor Albano Corra Eh no no Aspetta Aspetta che devo Sata Ok so stra avanti So stra avanti Sono un animale Guarda che idioti Che continuano a cadere Sata Ok checkpoint Sono stra stupidi Si sono stra stupidi alcuni Oh dobbiamo qualificarci Almeno per il prossimo round No sto cadendo Ok posso cadere Praticamente X salti Però secondo me No no Cosa è successo Si è caduto Hai preso il fallo Fratelli Salta No dai È scivolato come un pole Vai vai Me lo prenda Me lo prenda L'ho preso No abbiamo tirato una testata Sono svenuto What a Il trucco è stare sulla linea centrale Bravo 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 Per ora sono passati in 8 Saranno in 10 12 Ok Vedo tanta gente No si stanno qualificando tantissimi Io sono C'è nostra indietro però Capito no No Neanch'io Giochi preziosi Fate qualcosa di giusto Eh niente Bravo A me manca poco eh Se non faccio minchiata adesso Mi qualifico Vai massa Vai massa Si 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 sono arrivato Bicis Sono arrivato Si boom Io sono qualificato Zì veloce veloce Io sono qualificato Quanti ne mancano 12 12 pochissimi Pochissimi Vediamo se ti posso sputtare Andai qua Ti vedo ti vedo Vai 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 Salta salta Vai si non sbagliare Oh non sbagliare Ora ne mancano due Dai siete tu e l'altro Vai a destra Salta ti prego Si corri Corri come un animale Si 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 Guarda Che chiulo Guarda questi tutti morti Si No guarda come bruciano Ma che figa Signori scaricatevi sto gioco E' bellissimo E ora dobbiamo sopravvivere Al secondo round Al secondo match Esatto Nel sopravvivere Quanto è l'ultimo round In quanti arrivano Eh non lo so Non ci Non ci sei mai arrivato Ok non ci sei mai arrivato Ok che figata Oddio questo qua stra brutto Devi riuscire a stare sul cilindro Non devi cadere mai Se cadi sei morto Per sempre Quindi hai una vita Si vieni squalificato Oh cosa No No male qui No no ma c'è il vuoto Zì c'è il vuoto C'è il vuoto No 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 Sono morto E' la fine Ok ok No sono morto Ok son vivo Per caso Per caso No 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 Infattibile È difficilissimo Qualificato Sì 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 A caso A caso Sì che godo Guardaci lì in parte Siamo in parte Io e te Madò che figata E c'è il traguardo finale Quindi ok qui abbiamo Uno si qualifica Ah no 25 Vai vai zì siamo in parte Sì siamo in parte Vai corri Corri Vai Che sberla che sberla Vai 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 L'importante è che almeno uno da noi vinca Eh esatto In teoria sì Io sto Boh oddio Per ora sto andando bene Sì sì anch'io Anch'io Salta 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 Questi facilissimi Stupidata totale Ok Sì ho imbrogliato Ho totalmente imbrogliato Sì totalmente Attento qua perché questi ti fanno uccidere Se ti buttano nell'acido sei morto Ok Fidio sto andando benissimo Sono carichissimo Sono stracarico Sono stracarico Zitto Sì 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 Qualificato Qualificato Bravo Masser Auto 5 Ok ora vabbè Vi farò il tag Secondo Sì Fidio vedi che i Dark Souls aiutano a giocare a Dark Souls Questo è morto palese Sto spottando Gladys Royal Rumble Ah devo prenderli Devo prenderli e lanciarli fuori Ah no Devo prender la coda e indossarlo No non ho capito Ah tutti vogliono prendermi ora No 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 ragazzi Oh No 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 boys Ok Com'è che si prende Com'è che si prende Con R2 Con R2 Ok Chi ha la coda vince Chi ha la coda vince Eh esatto Eh qua è un po' a fortuna in realtà Esatto Eh son morto Dai coda mia Coda mia Coda mia Come faccio a prenderla Ma devo tenere premuto Eh con R2 Devi solo schiacciare Eh ho schiacciatelo Un remoto in caso No fate qualcosa No 5 4 3 2 1 No Ah No Ha vinto un tipo a caso Va bene dai Va bene va bene Però non mi piace Vincere così Sarebbe bello Una corsa finale Quanto cicciotto questo Ok Sì ora ne facciamo Palesemente un altro Cioè palesemente Certo Palesemente Allora nuova modalità Nuova partita Door dash Dobbiamo evitare le porte finte Ed entrare in quelle vere Per poi buttarci sul traguardo Di una cattivera Una prepotenza Che come lei mi conferma È incredibile Esatto Esatto Quindi dato che è una guerra Non so neanche dove mi fa spawnare Dai non per ultimo Ti prego non per ultimo Perfetto Io sono in terza fila Vai vai Ma ci sta almeno Vedo dove sono Eh esatto Io aspetto un attimo i soci Però vedi che si buttano tutti in una Che mambassa Che mambassa Qua niente Dai qua mambassa Bravo mambassa Sono primo Attenzione sono primo Mambassa è cattivissimo È primo in classifica Passa per una porta Ne salta un'altra Madò 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 Dai le sto prendendo tutte Le sto prendendo tutte Dai che questa è giusta Oddio le sto prendendo tutte Oddio sono primissimo Cioè non primo Oddio le sto prendendo tutte E ora questa per forza No Sì Dai mi ha recuperato in 600 Vai vediamo i tipi Ok E ora devi fare il salto finale Ah no no Ok vai Io sono stra qualificato Ma stra proprio Anch'io Anch'io Ok sono quarto Terzo o quarto Sì 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 Perfetto Perfetto Facilissimo Signori facilissimo Ok Mi sono qualificato decimo io Ok io tipo sesto Fili ho prese tutte giuste Sì sì l'ho visto Che botta di cuda Che cuda Oh e ora la parte più bella Guardiamo gli altri morire Oh guarda come cadono Addio bitches Oh vai bene 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 Che bene Ah se te sei in parte a me Se schiaccia le due Vedi i personaggi Dai io sono il primo a sinistra Ah io ti vedo proprio in parte a me Vabbè fa niente Prossimo prossimo Dai cosa ci dai Gioco Daccene uno calino Daccene uno bello Soprattutto che non l'abbiamo fatto Vedo uno col pallone Uno col calcio Molto strani Particolari eh Allora io scappo che ho la coda Tu valla a prendere Io scappo e io vado a prenderla Ok quindi fai tutto Tu scappi e tu la prendi Vai ho la coda Bravo scappa Ora continua a scappare Continua a scappare Sì sto cercando di scappare Un botto anche Buona buona Siamo otta Oh abbiamo sette punti Otto perfetto I blu stanno morendo male eh Meglio 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 esatto Dai vinto Siamo primi Sì primi primi Buona Superato il round Perfetto Ora chi muore è tipo Siamo straforti Sì un botto Muore in teoria Uno dei due team O il verde o il blu Che ansia E il blu Addio I verdi erano ultimi tutto il tempo Si sono salvati alla fine eh Devi muoverti tra gli anelli Nooo Cioè prima ci siano salvati per sbaglio Te lo dico tranquillamente eh Proprio per sbaglio Sì sì questi Vengono falciati di brutto Ti consiglio gli anelli viola Sembrano i più facili O anche i blu No boh non lo so A caso Tu cerca di sopravvivere In tredici si salvano Male male Tredici male male No Morto Nooo Dannazione Fa niente Fa niente Ti spectro Vediamo se ti trovo Arriva Oh arrivami al round finale eh Salta via Salta via Salta via Ah Ah No Bravissimo Che ansia Che ansia signori Che ansia Sentitela Ok bravissimo Bravissimo Devi resistere altre cinque persone eh Sì Bravissimo 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 Vai vai Ora sei Vabbè io morirò Signori è stato un onore Ma vedrete un master cadere di cattiveria Guarda come cazzo Morde Esploso Esploso Esplodono tutti guarda 19 Non credo sia il round finale però eh Ci sono le piastrelle finte Tu devi trovare quelle vere È stra difficile No È stra difficile Io ti 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 Salta Ti conviene saltare Oppure no Fai andare prima gli altri Però non troppo prima Vediamo dove sei Prima No Morto Ok Ah però torno in vita Ah no Allora corri corri Vai vai buttati buttati Vai vai Corri 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 Si qualificano in undici eh Poi c'è il round finale Passa Passa sulla destra Passa sulla destra Sono tutti lì ziti Ti fan cadere Eh Troppi 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 Vai buttati buttati Se trova la strada è finita Quindi io cambi strada Vado qua Vado di qua Ok No ma fai quella Fai quella che hanno fatto loro Però poi buttati a caso Da altre parti È questa Questa Quella Quella bella Perfetto No No finita Sai cosa Secondo me dovevi andare con loro Era un po' a caso Va bene va bene Dai siamo arrivati Cioè tu sei arrivato tra i primi undici Va bene dai Ci sta ci sta Quindi ci prendiamo i primi E poi direi che per questo episodio Cioè stupendo Stupendo come gioco Fuori di testa Anzi ci registriamo anche un altro episodio Perché è giusto così Allora In teoria ora mi danno i punti Dai beh infatti i punti Siamo a livello 2 Siamo a livello Sì sono salito a livello 2 500 kudos Che non ho idea di cosa siano Dovrebbe essere la valuta O valuta Perché dir si voglia Del gioco Vediamo se si può shoppare qualcosa Io non ho 2000 Oh 2000 buono Eh anche io 2085 Ah ma le corone si sbloccano vincendo Eh sì Ah Tipo io potrei prendermi già Dei oggetti volendo Tipo le due skin Però no Per ora niente Quindi io direi che Per questo episodio è tutto Ce ne registriamo chiaramente subito Un altro Vi ringrazio per l'avviso Vi do un punto Alla domanda Alla solita Ravvero 2 Un quarto Con un nuovo video Che magari sarà Una abicraft E molto probabilmente Sì Ciao 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 Ciao